ciao a tutti cari amici e care amiche spero che questa giornata che volge al termine e così è andata nel migliore dei modi ringraziamo Gesù per tutti i benefici che ci ha concesso se c'è stata qualche difficoltà qualche inconveniente qualche prova da affrontare non temete non vi preoccupate rifugiamoci in quest'ora nel cuore misericordioso di Gesù e della mamma celeste con questi sentimenti voglio dirvi buonanotte a tutti e darvi la santa benedizione il signore sia con voi vi benedica di ogni potente padre e figlio e spirito santo buonanotte a tutti e a domani grazie a tutti grazie a tutti